educazione e informazione per consumatori ed esercenti. E ancora rispetto delle regole e rispetto della propria città. Tanti temi legati nel contenitore di Bevi Responsabilmente, progetto nazionale di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e dell'Associazione Nazionale Magistrati, declinatosi ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord in un altro tassello di sinergie fra associazioni di categorie, istituzioni, forze dell'ordine e studenti verso legalità e contrasto all'abuso di alcol. Noi oggi ci proponiamo un modello vincente di pubblico esercizio che diventa presidio sì di socialità ma anche presidio di sicurezza e quindi di qualità. Noi chiederemo oggi tutte quelle che sono delle normative nazionali che vengano ovviamente rispettate insieme alle ordinanze locali ma che diventino però un connubio, un equilibrio, un fare rete tra quelli che sono i ragazzi quindi dell'alberghiero, i ragazzi che usciranno diventeranno datori di lavoro piuttosto che dipendenti all'interno dei nostri locali, ai locali stessi che diventano presidi di sicurezza e infine al consumatore finale che deve con piccole norme, piccole regole riuscire a garantire non solo la qualità del bere quindi del poter scegliere gli esercenti di fiducia e di qualità ma anche quello di rispettare la città dove si vive e si abita. Sono dei dati che attestano che purtroppo effettivamente il problema di giovani che approcciano troppo presto al consumo di bevande alcoliche esiste ed è un problema che va assolutamente affrontato in maniera anche molto forte. Il nostro ordinamento già prevede determinate norme per cercare di evitare che questo avvenga. La prima che interessa direttamente i nostri esercizi è proprio il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, addirittura nel caso in cui avvenga la somministrazione al minore di anni 16 si entra all'interno di una responsabilità di tipo penale. Quindi è già un problema che è affrontato al nostro ordinamento, probabilmente bisogna fare qualcosa di più. L'attività di somministrazione di bevande è uno strumento per tutelare in qualche modo e garantire che l'uso dell'alcol nelle nostre attività sia dato e distribuito in maniera corretta. Difficilmente uno che ha un'attività di somministrazione di alimenti e bevande rischia sospensione della licenza oppure multe salate che vanno da 500 a 2.500 euro perché dà da bere a un minore oppure perché dà da bere a un qualsiasi stato di ubriachezza. Quindi diciamo che noi in tutti i settori riusciamo a tutelare anche quello che è il consumo dell'alcol e poi ci mettiamo sia la faccia che poi le proprie licenze. È evidente che un fatto sociale, un fatto di costume così profondo, così antico non può essere gestito con un chiave puramente repressiva. Siamo brevissimi a fare repressione, però non sposta di un millimetro la faccenda. Secondo me un atteggiamento concertativo tra tutte le componenti che sono imprenditoriali, che sono istituzionali su un tema specifico va fatto. Significa che mettersi al tavolino significa fare patti da gentiluomini e poi rispettarli. Quindi mi riferisco al rumore, agli elementi di degrado, all'erogazione e alla somministrazione di bevande alcoli. Tutto questo non può essere lasciato a singolo operatore o una categoria che viene fatta ballare sul filo. Bisogna ragionare tutti quanti insieme. È un problema che ha dei risvolti di carattere sanitario, che ha dei risvolti di carattere sociale e anche purtroppo se guardiamo i tanti incidenti che avvengono nel nostro paese e vediamo che giovani e non giovani spesso sono con dei tassi alcolemici più alti di quelle che sono le previsioni di legge. Per questo noi riteniamo che il tema vada affrontato con severità, con serietà e con continuità attraverso progetti di formazione e informazione. Occorre continuare e progetti come questi vanno nella direzione giusta proprio perché se si vuole intraprendere anche quel cambiamento culturale che soprattutto quando ci si mette la guida su un utilizzo responsabile dell'alcor bisogna continuare a lavorare giorno per giorno in particolare coinvolgendo i giovani ma non solo, anche responsabilizzando le attività, anche facendo un lavoro proprio sinergico come tavoli di questo tipo servono.